Ciao, è arrivato il momento di presentare il modulo di gestione di Clupic. Grazie al nostro strumento, qualsiasi atleta che voglia iscriversi al tuo club, che si tratti di una squadra, di un torneo o di un evento specifico, potrà farlo in modo digitale e molto semplice, attraverso il proprio cellulare. Infatti, dall'app del club, l'utente accederà ai diversi moduli di registrazione aperti. Innanzitutto dovrà definire se sta registrando se stesso o un minore sotto la propria tutela e poi potrà tranquillamente aggiungere foto, documenti, dati e il metodo di pagamento scelto. I moduli di registrazione sono completamente personalizzabili, in modo da poter configurare i dati, i file, i documenti o requisiti che si desidera richiedere in ciascuno di essi. Inoltre, sono collegati al modulo di contabilità, in modo che se uno dei tuoi moduli prevede pagamenti e incassi legati alla finalizzazione di una registrazione, il sistema riconoscerà automaticamente il metodo di pagamento, le tariffe scelte e l'utente associato. Dal pannello di amministrazione, il responsabile riceverà i diversi moduli già compilati e potrà convalidarli o rifiutarli, a seconda che tutto sia corretto. Inoltre, c'è la possibilità di unire gli utenti nei database se è stato creato un duplicato. Dopo che un utente si è registrato o lo ha invalidato, tutte le sue informazioni, i suoi dati e i suoi documenti vengono automaticamente registrati nel database e poi assegnargli il ruolo che ricoprirà all'interno del club, che sia giocatore, allenatore, coordinatore o amministratore. Nel database è possibile anche filtrare per campi e tanno, in modo da poter selezionare un determinato gruppo di utenti e inviare loro una comunicazione personalizzata, in modo segmentato o, ad esempio, inviare loro la chiave di attivazione del gruppo, in modo che possano attivare i loro utenti all'interno dell'applicazione.